A i soliti ignoti di ieri 29 aprile 2021 è stato presente in qualità di giocatore di questo bellissimo programma che piace alla maggior parte di noi italiani Il grande Arturo Brachetti è un famoso illusionista, un personaggio che sa creare mistero e sa vestire i panni diversamente in maniera diversa quindi si cambia di abito in maniera incredibile, io lo definisco un trasformista in maniera garbata e piacevole Bene, pensate che a un certo punto il buon Arturo Brachetti ha tirato fuori dalla sua tasca una mascherina che raffigura la sua bocca che va a sorridere e poi tira fuori dalla sua tasca un'altra mascherina dove si vede appunto lui che ha il broncio, quindi la parte sotto che è imbronciata Ovviamente una risata è scoppiata da parte del buon Amadeus, il conduttore di questo programma TV che ha veramente lasciato il segno e che ha colpito tutti quanti, nessuno escluso Bene, complimenti al grande Arturo Brachetti, famoso trasformista di nuova eccellenza Il video termina qua, iscrivetevi al canale, il narratore italiano, commentate Complimenti Arturo, sei un grande, sei un mito, sei un fenomeno Grazie